Musica Si è tenuta presso la sede del CUP Napoli, Comitato Unitario Professioni, la conferenza stampa di presentazione della manifestazione responsabilità sociale e tutela del bene comune, in programma martedì 3 dicembre presso la Basilica di San Giovanni Maggiore. Innanzitutto l'incontro è voluto dal Cardinale Sepe nell'ambito degli incontri per un dialogo con la città e per la città. I professionisti hanno accolto questo invito anche per un confronto diretto, condividendo anche che le professioni si debbano impegnare sul piano sociale più diretto per le sorti della città. L'incontro ha un contenuto fortemente etico, ma anche un contenuto di cittadinanza attiva. Nel corso della conferenza, alla quale hanno partecipato i presidenti degli ordini professionali napoletani, sono stati presentati 8 punti programmatici condivisi dai professionisti e dalla curia per costruire un percorso utile alla rinascita della città. Presente anche il Monsignor Adolfo Russo, vicario episcopale per la cultura della diocesi di Napoli. E' un appuntamento ovviamente molto importante perché il Cardinale di Napoli, il Cardinale Sepe, vuole chiamare a raccolta tutte le energie migliori della città di fronte a delle difficoltà che la città avverte nel riprendere il proprio decoro, la propria dignità, il proprio percorso verso una rinascita. Il Cardinale anche a seguito del Giubileo che si è celebrato due anni fa ha voluto chiamare a raccolta tutte le energie, le risorse migliori e attive della città. Non poteva ovviamente in questo ambito trascurare gli ordini professionali che costituiscono la parte più viva della cittadinanza perché Napoli possa risorgere, possa recuperare il proprio patrimonio di dignità, di impegno, di futuro. È necessario che tutti diano una mano. Sicuramente il mondo delle professioni può essere molto utile alla nostra città. Con il Cardinale Sepe abbiamo avviato questo progetto che vede tutte le professioni napoletane e siamo un numero abbastanza importante per svolgere delle attività anche nel sociale. Già l'ordine dei commercialisti è stato impegnato in queste attività con l'istituzione presso i 14 decanati di sportelli per persone più bisognose e credo che questo progetto che ci vede oggi tutti insieme intorno a un tavolo è sicuramente una risorsa importantissima per una città che ha bisogno di speranza ma soprattutto di fiducia. Per un'iniziativa importante che si inserisce nell'ambito dei dialoghi con la città organizzati alla curia. Devo dire, grazie al Presidente del Comitato delle Professioni di Tila si è stabilito una serie di punti dai quali partire assieme tutte le professioni che vanno sostanzialmente in tre direzioni. Il decoro della città con tutta una serie di iniziative anche di zone. I giovani, quindi iniziative a favore della formazione, anche dell'artigianato e poi gli indigenti, quelle che sono le situazioni più complicate e più difficili, c'è tutto naturalmente di intesa con la curia. Il messaggio che deve partire da tutti quanti noi è qualcosa di molto importante perché i professionisti sono già impegnati in tante attività che fanno di tipo volontario per la città. Noi in particolare gli ingegneri hanno, dal cardinale, incomodato la Basile di San Giovanni Maggiore e ormai è diventato sicuramente questo un luogo molto noto per la città. Da quel punto si stanno diramando anche altre iniziative sul territorio. Il CUP, come sapete, coordina tutte le professioni. Quindi ciascuna delle professioni poi per i suoi aspetti peculiari collabora attivamente a questo discorso e sicuramente il notariato ha una funzione di valenza sociale che poi si esplica in tanti aspetti che sono legati alle assistenze in casi particolari di persone in situazioni di bisogno. Abbiamo partecipato, faccio un unico esempio così giusto per dare un'idea al coordinamento delle vittime innocenti della criminalità. Il decoro soprattutto di questa città, una speranza soprattutto per i giovani che non devono andare via da questa città. Per dare questa speranza ci deve essere un impegno di tutti e quindi naturalmente della società civile e quindi l'impegno della cura, di tutte le forze sociali che si debbano impegnare per questo. È un bene comune e naturalmente il bene proprio va difeso. Questo deve essere la capacità da parte di ogni professionista in questa direzione. Noi innanzitutto come consente del lavoro ci teniamo a rimarcare quello che è il ruolo sociale delle libere professioni nel caso di spese della nostra professione. Non è un caso se noi abbiamo l'onore e nonché la grande responsabilità di portare nel titolo stesso della nostra professione la parola lavoro. La parola lavoro dice lunga circa l'impegno sociale che i consulenti del lavoro hanno e quindi al servizio delle istituzioni, al servizio delle imprese e dei lavoratori. È un'iniziativa lodevole in quanto oltre ad avere un ruolo sociale potrebbe avere anche un senso civico, cioè dobbiamo risvegliare le coscienze del cittadino napoletano che deve imparare ad amare la propria città. Possiamo incidere laddove la politica non riesce a fare del tutto il proprio compito. Potremmo adottare per esempio una zona di città con un progetto pilota dove sfruttando il senso di competizione del cittadino napoletano potremmo bandire dei concorsi in determinati quartieri dove possiamo premiare alla fine la strada più pulita, il condominio più decoroso o l'aiuola più bella in modo da riqualificare pezzi di città. Un messaggio di speranza che noi condividiamo, abbiamo accettato molto volentieri insieme agli altri ordini professionali l'invito fatto da sua eminenza il cardinale perché crediamo veramente che questa città possa e deve rinascere, ci crediamo tanto tant'è che abbiamo puntato sui giovani, abbiamo puntato sulle nuove leve, abbiamo puntato sui nuovi professionisti. È un momento particolare per la città di Napoli, penso che sia giunto il momento di cambiare pagina. Voltare pagina può farlo solo la classe professionale in questa città che è capillarmente diffusa. Noi geometri siamo presenti sul territorio in maniera abbastanza omogenea, per cui possiamo dare il nostro contributo al miglioramento della vita in questa città. Un messaggio fondante proprio per la città perché questa città purtroppo ha raggiunto un degrado altissimo e quindi partire da un'unione, da una forza di tutte le professioni è fondamentale per la crescita e la cittadinanza attiva. Da questa iniziativa viene fuori che anche gli infermieri che già impegnati in azioni e iniziative di solidarietà, riferite soprattutto alla prevenzione e alla cura delle persone, in questo contesto può allargare il proprio ambito di azione a un'azione anche più civica, più allargata a quelli che sono poi i bisogni più generali delle persone. Quindi collaborare con le altre professioni sarà sicuramente un fatto anche di crescita per la nostra e abbiamo accolto per questo motivo con molto entusiasmo l'invito del Cardinale Sepe a far parte di questa grande e bellissima iniziativa. L'apertura del mondo delle professioni con il mondo ecclesiastico è qualcosa di storico in questo momento. Facciamo solo un breve scenno a quello che ormai è la condizione sociale della città di Napoli. Napoli sembra essere il crocevia di tutte le emergenze praticamente, anche se dobbiamo dire con molta soddisfazione apre anche il crocevia di tante eccellenze. Certamente è un momento di grande rilevanza perché spesso le problematiche hanno degli aspetti multidisciplinari che poi riguardano un po' le diverse categorie professionali dove ognuno per il proprio bagaglio culturale, per le proprie conoscenze sente anche il dovere di metterle a disposizione della collettività. Per quanto riguarda che i veterinari già sono impegnati nel sociale, per quanto riguarda i controlli anche degli alimenti, delle falde, la terra dei fuochi è anche un'ambientazione in cui il veterinario trova la sua collocazione. Quello che invece vorrei sottolineare io, anche perché io sono un libero professionista che mi interesso di piccoli animali, è anche l'importanza del piccolo animale, del pet, per quanto riguarda anche le persone anziane, quanto questo possa diventare anche una compagnia, una fonte anche di interesse per una persona che si trova sola nel suo contesto.